Il presidente Trump, dopo essere stato in Arabia Saudita e Israele, il 24 maggio è in visita a Roma per poi andare il 25 al summit NATO di Bruxelles e tornare in Italia il 26-27 per il G7 di Taormina e la visita alla base USA-NATO di Sigonella. Quali sono gli scopi del suo primo viaggio all'estero? Principalmente tre, spiega il generale McMaster, consigliere del presidente per la sicurezza nazionale, lanciare un messaggio di unità ai musulmani, ebrei e cristiani, costruire relazioni con i leader mondiali e proiettare la potenza americana all'estero. La visita a Roma è la terza tappa di quello che viene descritto come un pellegrinaggio religioso nei luoghi santi delle tre grandi religioni. Il pellegrino Trump ha iniziato il viaggio firmando a Riyadh l'accordo per la vendita all'Arabia Saudita di armi USA per il valore di 110 miliardi di dollari, che si aggiungono a quelle già fornite dal presidente Obama per il valore di 115 miliardi. Armi impiegate, tra l'altro, nella guerra della coalizione guida saudita, sostenuta dagli USA, che fa strage di civili nello Yemen. Al summit arabo-islamico-americano del 21 maggio a Riyadh, Trump ha chiamato ad un rinnovato impegno contro il terrorismo l'Arabia Saudita e le altre monarchie del Golfo, ossia quelle che hanno finanziato ed armato l'ISIS e altri gruppi terroristi nelle operazioni sotto regia USA-NATO, dalla Libia alla Siria e all'Iraq. In quella che definisce una grande battaglia fra il bene e il male, Trump include Hezbollah e Hamas nella lista dei barbari criminali, insieme a ISIS e al-Qaeda. Denuncia all'Iran di essere responsabile della instabilità del Medio Oriente, accusandolo di finanziare, armare ed addestrare terroristi e milizie che seminano distruzione e caos nella regione, di destabilizzare la Siria, dove, afferma Trump, Assad, sostenuto dall'Iran, ha commesso crimini indicibili. È una vera e propria dichiarazione di guerra all'Iran, che annulla di fatto gli accordi conclusi. Dichiarazione massimamente gradita in Israele, dove il Presidente degli Stati Uniti è in visita il 22-23 maggio per rafforzare la cooperazione strategica. E mentre nelle carceri israeliane è in corso da 40 giorni lo sciopero della fame di migliaia di prigionieri politici palestinesi, Trump incontra Mahmoud Abbas allo scopo, comunica la Casa Bianca, di sollecitare i leader palestinesi a fare passi costruttivi verso la pace. Portando questo cosiddetto messaggio di unità, Trump discuterà con Papa Francesco, domani a Roma, quella che la Casa Bianca definisce una serie di questioni di mutuo interesse. Dopo l'incontro col Presidente Mattarella, che ribadirà l'ancoraggio storico dell'Italia agli Stati Uniti, secondo le parole di Gentiloni, Trump parteciperà al Summit NATO di Bruxelles. Qui sosterrà il piano del Pentagono per l'Europa, ossia l'escalation militare USA in Europa, e il rafforzamento della NATO a fronte di quella che viene definita una Russia risorgente, la quale cerca di minare l'ordine internazionale a guida occidentale. Piano che Trump deve eseguire, rimangiandosi la sua affermazione di una NATO obsoleta e la sua promessa elettorale di aprire una trattativa con Mosca. Pende infatti sulla sua testa la spada di Damocle dell'impeachment, con l'accusa di connivenza col nemico. Dal Summit NATO, Trump andrà al G7, formato dai sei maggiori paesi della NATO, Stati Uniti, Canada, Germania, Gran Bretagna, Francia e Italia, più il Giappone, il principale alleato USA-NATO nella regione Asia-Pacifico, dove il Pentagono schiera crescenti forze, anche nucleari, contro una Cina aggressiva e una Russia revanchista. Il Presidente degli Stati Uniti visiterà infine la limitrofa stazione aereo-navale di Sigonella, principale base delle guerre aperte e coperte USA-NATO in Medio Oriente e Nord Africa, presentate quale proiezione di stabilità nel Mediterraneo. Grazie a tutti.